Il Forlino deve rammare il cazzo di queste due partite e che in due partite deve succedere di tutto. Noi potevamo fare meglio in un altro periodo sotto tutti i punti di vista, quindi quando giochi i partiti di play-out e andate e ritorno può succedere di tutto. Noi siamo usciti meritatamente con un pareggio a partire di andate che dovevamo vincere, oggi abbiamo perso meritatamente che il fan è stato superiore, però ridursi, ripeto, a giocarsi tutto in due partite dopo può succedere di tutto. I ragazzi hanno fatto il massimo, io credo che abbiamo fatto un buonissimo lavoro in un campionato durissimo per questa società, per come l'abbiamo affrontato, per il gruppo di ragazzi che avevamo, quindi da quel lato lì ai ragazzi non si può rimproverare niente. Dopo è normale che siamo qui a commentare una retrocessione che dispiace a tutti e non è semplice, però, ripeto, nelle condizioni in cui siamo partiti e tutto, abbiamo rammare che potranno gestire meglio due mesi, però, ripeto, lì andiamo a fare poi discorsi che in questo momento non hanno senso. L'abbigliazione, la voglia, il crederci sempre attraverso tanti sacrifici. Se guardiamo da dove siamo partiti, che eravamo a meno 5 dall'Ancona, poi siamo arrivati alla fine con le ultime partite, per giocarci la seconda partita in casa, sempre in ordine crescente. Inizio, i complimenti vanno soprattutto ai calciatori. Non voglio essere considerato quello che fa Salvezza, io lavoro per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, perché ho fatto anche i play-off, ho fatto tante cose.